I lavoratori ci sono, hanno capito che col SIFUS è rinata la speranza. Andiamo avanti nella battaglia per la stabilizzazione dei lavoratori forestali e per l'immediata riqualificazione dei lavoratori dell'ex formazione perché siamo convinti che una volta riqualificati quelle professionalità potranno essere tranquillamente utilizzate ed essere quindi ricollocate. Questa è stata un'occasione straordinaria dove abbiamo messo assieme l'importanza di condividere non solo il pensiero dei forestali e dei consorzi di bonifica e della formazione ma di rappresentare in un unico obiettivo la necessità di rispettare l'ambiente trattarlo non solo per la regimazione delle acque non solo per tenere in vita l'agrosistema ma affinché la nuova società, le nuove leve saranno in grado di sapere rispettare con la giusta formazione ciò che ci lega alla terra cioè l'acqua, gli animali e la vegetazione. Lavorare per la stabilizzazione del personale non è un obiettivo né individuale né singolare ma di una collettività che sia capace di integrare in maniera circolare la società rurale a quella civile.